Buonasera Roberto Ciao Fabio, buonasera Grazie, grazie a te, grazie a tutti i lavoratori della Scala che ci hanno consentito questo collegamento questa sera che hanno aperto per noi Grazie Roberto Allora raccontaci esattamente qual è lo spirito di questa prima e questa straordinaria prima della Scala che dalle 17 per l'appunto sarà trasmessa da Rai 1, da Rai 3, da Rai Play quindi sarà un evento televisivo che cosa accadrà Esatto, è un evento molto importante molto significativo in questo momento per la cultura è un messaggio, il messaggio che la cultura e l'arte non si deve fermare ma deve ripartire e da qui si può ripartire in un momento così difficile, così duro, così buio per tutti noi, per l'umanità bisogna ripartire dall'arte e dalla cultura ci può dare conforto, ci dà gioia, bellezza e quello che veramente ci può far rinascere è la luce in fondo al tunnel quindi questa prima, questo 7 dicembre è particolarmente importante proprio perché la Scala è veramente il simbolo della cultura italiana non solo in Italia ma in tutto il mondo quindi ci sarà una parata di stelle, di star della musica, dell'opera lirica e anche del balletto tutti insieme per segnare una rinascita una ripartenza fondamentale in questo momento veramente più che mai Senti, tra l'altro stavo pensando Roberto che parlavo con Aldo Gazzullo del suo libro Rivedere le stelle titolo che ha adoperato appunto anche la Scala ecco, se dopo 700 anni adoperiamo in realtà un po' di più di 700 anni lui l'ha scritta nel 300 insomma, 721 anni adoperiamo ancora un'espressione di Dante per significare qualcosa vuol dire quello che diceva Stefano Massini cioè, quando l'artista è tale trova l'essenza esattamente delle parole del colore per un pittore del gesto per un interprete come per un etuale come Roberto Bolle insomma, quel gesto di Roberto è uguale al colore di Van Gogh è uguale a un verso di Dante ecco, volevo chiederti una cosa Roberto ma adesso non ti offendere non ti offendere ma voglio dire tu nel lockdown ti sei dovuto fermare come tutti però per un ballerino un anno di pausa è più di un anno mio insomma nel senso che è tanto assolutamente sto dicendo capito che sei però voglio dire no non è che tu abbia un'età però voglio dire lui lui ha detto lui l'ha detto che fra due anni vuole andare in pensione allora se uno pensa alla pensione dice due anni se ne perdo uno quindi devi farne almeno tre ancora ecco questo voglio dire assolutamente no in realtà non so quando quando andrò in pensione ah meno male e quello dipende dal dal mio fisico lo vedremo lo vedremo più in là è stata un pezzo di un'intervista estrapolata comunque è vero che tutto questo periodo di stop e di fermo è un periodo molto difficile soprattutto per chi è abituato a lavorare col corpo ogni giorno quindi per noi artisti ballerini così come per tutti gli atleti quando siamo abituati a spingere il corpo ai massimi livelli da sempre fin da piccoli dobbiamo essere sempre a un livello altissimo tanti mesi così quasi un anno senza poter performare ai massimi livelli è veramente impegnativo io per fortuna alcuni spettacoli sono riusciti a farli e qui alla Scala siamo riusciti a fare Bolero a settembre quindi esatto siamo riusciti e poi in questo periodo per fortuna c'è la televisione e abbiamo preparato e stiamo preparando un programma molto bello per il primo gennaio la sera di Capodanno ritornerò con Danza con me con Vasco Rossi molto speciale con Vasco Rossi con Vasco Rossi con cui apparentemente non hai molto in comune no dico invece con cui apparentemente non ho molto in comune e credo che sarà molto bello per il pubblico vedere come due artisti così diversi riusciranno a trovare un punto di incontro tra le loro arti veramente siamo siamo molto lontani ma secondo me riusciremo a stupirvi a trovare qualche cosa di e che sarà veramente magico ora ti faccio Vasco Rossi sta a vedere c'è l'emozione che ci lega noi due c'è l'emozione perché l'emozione è la canzone che fa pam cioè si fa pam se è così che Roberto lui fa cogliuca e si fa pam capisci così più o meno più o meno è vero senti Roberto il 24 novembre per Rizzoli è uscito Parole che danzano io voglio sperare che questa copertina sia Photoshop ma temo di no e non lo è non è Photoshop temo di no e quindi lui non è umano come io ho sempre sospettato è un libro fotografico naturalmente non solo perché è un dizionario personale che la chiude per tornare a Massini per tornare a Dante per torna a come dire a scegliere ecco le parole più care più intime anche di Roberto ora io ne ho scelte alcune ma insomma potevo scelgne molte altre la prima è perfezione che è una parola che insomma evoca la danza immediatamente ed evoca anche Dante perché Dante più lo si legge insomma sono banali ricordi mi rendo conto universitari ma insomma se si studia Dante ogni parola quella parola quell'uso del tempo del verbo è oggi soltanto un computer riuscirebbe davvero a mettere insieme tutte le combinazioni Aldo per come è stata scritta è un po' beh sicuramente appunto come dicevi tu ci sono tantissime parole tutte le parole mi rappresentano in qualche modo sono parole importanti della mia vita e del mio percorso artistico perfezione è una di quelle perché la danza cerca aspira alla perfezione una perfezione che è raggiungibile ma ogni giorno noi ci mettiamo al lavoro e lavoriamo sul nostro corpo per raggiungere quell'ideale pur sapendo che non riusciremo mai ad arrivarci senti hai messo anche però disordine hai scelto che è il contrario in qualche modo della perfezione eh sì perché mi rappresenta molto io sono una persona magari appunto non si può intuire immediatamente ma molto pigra e disordinata infatti chi entra nel mio camerino qui alla scala e vede capisce subito dov'è la mia postazione perché c'è un tutte le cose buttate in giro intorno e in quello sono veramente un disastro lo ammetto senti la parola telefono è legata alla scala invece sì perché la parola telefono è un aneddoto molto caro molto importante che è quando ho fatto questa telefonata a casa sono stato promosso primo ballerino dopo una recita di Roma e Giulietta il giorno dopo mi ha chiamato sovrintendente mi ha nominato primo ballerino è stata per me una sorpresa un'emozione incredibile quindi ho subito chiamato mamma e papà a casa e devo dire mi sono è stata un'emozione incredibile ancora adesso tutte le volte che lo ricordo è una grande emozione perché in quel momento ho condiviso quello che era il raggiungimento di un risultato importante con loro che si erano sacrificati tantissimo per permettermi di seguire la strada appunto della danza facendo davvero tanti tanti sacrifici e quello era un po' come ripagarli di tutti questi sacrifici senti Roberto un'ultima cosa domani cosa farai tu in questa prima domani una solo molto bello di Massimiliano Volpini in cui duetterò con un raggio laser quindi un'unione di danza espressione del corpo e nuove tecnologie mi piace sempre unire quella che è l'arte appunto così raffinata ma anche antica della danza con le nuove tecnologie per riuscire anche a coinvolgere e ad emozionare a raggiungere anche un pubblico diverso magari più giovane credo che domani questo evento dalla scala riuscirà davvero a emozionare milioni di persone in tutto il mondo senti l'anno scorso Geppi aveva raccontato che mangiavi molti snack giapponesi mentre facevate il programma hai smesso o hai ancora la dipendenza? ho smesso sì non sono più arrivati quest'anno e i fan giapponesi non me li hanno più portati perché non hanno più viaggiato perché di solito i miei pesciolini giapponesi mi arrivavano con appunto con i fan che venivano a seguirmi dal Giappone senti Carlo Roberto ti abbraccio tantissimo grazie buon Natale anche per intanto poi ci rivedremo con Danza con me grazie Fabio il primo gennaio ricordo parole che danzano Rizzoli i libri parole che danzano come in questo momento ci fanno compagnia grazie Roberto Bolle grazie grazie